Oggi ci troviamo a Maiwand nella provincia di Kandahara, uno dei distretti più remoti di questa provincia al sud dell'Afghanistan e qui fino a poche settimane fa passava la linea del tronide che divideva le truppe del governo dalle truppe dell'Emirato Islano. Intersos da qualche mese ha organizzato in questo villaggio molto remoto che si chiama Container Bazar un centro di salite. Che serve circa 18 villaggi, riusciamo a curare circa 90 persone al giorno tra cui 40 donne che ricevono cure antinatali e postnatali e vengono anche in questo centro per partorire. È un servizio essenziale, particolarmente importante in queste ultime settimane che il Servizio Sanitario Nazionale è in grande sofferenza in particolare dopo che la World Bank, la Banca Mondiale, ha congelato i finanziamenti per il Sistema Sanitario Nazionale. Intersos continuerà a rimanere e supportare la popolazione dell'Afghanistan, in particolare in questi villaggi molto remoti dove i servizi sanitari che Intersos fornisce sono gli unici a cui la popolazione può avere accesso.